Ciao! Il self-concept è letteralmente la concezione che hai di te stessa. Adesso ti spiego come lavorarci e perché è essenziale nella manifestazione. Carl Rogers spiega che il self-concept è diviso in tre parti. Il vero te, il tuo te ideale e la tua autostima. La prima parte, il vero te, è come ti vedi. Il modo in cui parli di te stesso, i tuoi valori, le tue credenze, è tutto ciò che hai imparato, adottato o ereditato dal giorno della tua nascita al presente. Il te ideale, invece, è la versione di te che vorresti essere. Come se fosse il tuo alter ego, che sei sempre tu, però in realtà vive la vita che hai sempre desiderato, ha dei valori diversi, delle credenze diverse, che tu puoi creare e eventualmente diventare. In poche parole, quello che tu vorresti essere. E per ultimo, la tua autostima. Il valore ed i meriti che diamo a noi stessi. Quando abbiamo un'autostima abbastanza forte, siamo veramente inclini ad agire naturalmente ed essere il nostro naturale se stesso, senza cercare conferme esterne. Questo crea una corrispondenza tra il nostro vero sé e il nostro sé ideale. Se la nostra autostima è bassa, invece, c'è la disconnessione. Per lavorare di self-concept, devi ovviamente, prima di tutto, capire cosa penso di me stesso. Come mi pongo alle altre persone, come mi pongo nei confronti del mondo. Se non riesci a capirlo, chiedi alle persone vicine a te, chiedi alle persone, ai tuoi migliori amici, alla tua famiglia, come mi vedi, che impressione ti faccio, cosa pensi di me. Se come ti vedono loro corrisponde a quello che tu vuoi essere, allora sei sulla strada giusta. Se non corrisponde, invece, devi farci un lavoro. Come vorresti essere, cosa vorresti fare, quale cambiamento vorresti portare nel mondo. Se le persone ti vedono in un certo modo, come vorresti che ti vedessero. Ma soprattutto cerca di capire, se tu fossi già la tua versione ideale, se tu fossi già ciò che hai sempre desiderato essere, cosa faresti, come penseresti, come ti vestiresti, eccetera. Fai una lista di tutte queste cose. Fai una lista di affermazioni potenzianti e falle ogni giorno. Io sono pazzesca, io sono magnifica, io ottengo tutto quello che voglio, io ho successo, io sono importante, io sono desiderata, eccetera, eccetera. Puoi farne tutte quelle che vuoi. Sii coerente e consistente con il tuo nuovo mindset. Se per un momento, se una giornata ti senti giù di morale, non buttarti giù. L'importante è che il giorno dopo ricominci. Deve essere un lavoro costante. E poi piccole cose. Ascolta i subliminals tutti i giorni. Truccati anche se devi uscire per andare a fare la spesa. Mettiti quel vestito che sta nell'armadio da tanto tempo. Esci con le amiche. Vai al bar anche da sola. Ammirati, comportati come se tu fossi corteggiata da tutti. Dieta mentale e intrattieni solo i pensieri che ti fanno stare bene. Gli altri, mettili nel portale. Fammi sapere e non dimenticate di seguirmi. Gli altri, mettili nel portale.